Italia buongiorno abbiamo per le mani un qualcosa di veramente figo per questo motivo non ho voluto fare la puntata sulle batterie litio ma dedicarsi un'intera serie e quando sarà finita la serie con domande risposte approfondimenti sulle cose più interessanti inerenti al mondo del video ci sarà veramente un test molto molto particolare l'ho sofferto molto quindi deve essere particolare ma in ogni caso via con la puntata di oggi nella puntata di oggi parleremo di questo famoso bms battery management system tradotto quello aggeggio che serve a gestire la batteria nel video precedente abbiamo parlato e accennato alla necessità della presenza del bms appunto battery management system ovvero sistema di gestione della batteria che deve essere assolutamente presente per avere la sicurezza immaginatelo come una sorta di airbag il bms se l'impianto è fatto bene parlando soprattutto di bms interni non interviene mai mai vuol dire che è mai avrete un oggetto che come l'airbag si spera che non debba mai scoppiare che cosa fa questo bms protegge le batterie innanzitutto ci sono bms interni o bms esterni le batterie che in questo momento vengono proposte da dstec sono con bms interno quelle con bms esterno sono veramente pochissime marche io ne conosco una la più famosa la più quotata sicuramente di altissima qualità che però necessita di utilizzare tutto il sistema o l'ecosistema di quella marca ovvero non posso prendere le batterie e il bms e poi metterci un altro dcdc un altro regolatore di carica un pannello cioè lo posso fare ma ne perdo una serie di vantaggi e quindi di fatto al di là di avere costi più alti ho benefici che sono molto ridotti ci focalizziamo un attimo sui bms interni tanti hanno paura di questo bms interno perché se interviene si rimane senza energia sì io sempre estremizzando con l'esempio dell'airbag sì è vero però vuol dire che è successo qualche cosa di grave se si è se interviene bms vuol dire che il resto del sistema c'è stato un problema nel resto del sistema perché che cosa fa questo bms il bms contiene controllate le tensioni il voltaggio a corrente no un'altra roba anche la corrente la tensione parliamo di tensione quindi quanti volt ci sono sulla batteria e su ogni singola cella se la tensione è troppo alta o a livello di batteria o su una singola cella lui interviene interviene quello interno come dovrebbe intervenire quello esterno perché perché c'è un problema non deve andare sopra una certa tensione o sotto una certa tensione quindi controlla le tensioni controlla le correnti corrente che non deve essere oltre un certo limite come dicevamo sono correnti molto elevate solitamente parliamo di 1 c cioè una volta la capacità una 100 per ora avrà un bms che tiene interviene oltre i 100 ampere più una percentuale quindi vuol dire che per qualche secondo da più di 100 ampere cosa succede se per caso interviene stacca è vero e dopo qualche secondo ricontrolla se ci sono le condizioni se le condizioni ci sono si attacca da solo non è che si stacca e poi prendo e butto via la batteria non è un fusibile è una protezione è una protezione intelligente il bms rimane sempre alimentato quindi stacca solo quando esiste il problema quando c'è da quello che si sente dire in giro a quello che scrive la gente uno dice no che peccato al bms interno se la batteria un problema la butti via cioè butti via tutto se si guasta il bms chiaramente c'è la garanzia teniamo presente una cosa anche quando c'è il bms esterno tanto per capirci victron dentro la batteria c'è dell'elettronica che cosa c'è? c'è quella parte di elettronica che consente la rilevazione della temperatura la rilevazione delle tensioni la comunicazione dalla batteria verso il bms esterno quindi anche lì c'è una parte di elettronica è divisa in due sì perché quello esterno c'è poi delle uscite per controllare o staccare carica batterie eccetera eccetera staccare carica batterie che deve essere victron o i pannelli che devono essere victron quindi nulla da dire qualità assoluta costi di conseguenza ma anche lì rimane il problema tant'è che dalla batteria il bms non escono 16 cavi o 6 cavi cioè 8 cavi 1 ogni cella 2 per ogni cella esce il bus di comunicazione cioè un cavetto che tra l'altro si sono per quel cavetto vuol dire che c'è dell'elettronica dentro la batteria quindi abbiamo parlato di tensioni abbiamo parlato di correnti il bms controlla anche le temperature quindi come abbiamo accennato nel video precedente interviene nel caso ci sia una temperatura troppo alta o troppo bassa attenzione che non tutte le batterie anche se ti dicono da 0 a 45 interrompono la carica sotto quindi caricano lo stesso e il pericolo è che la batteria si danneggi perché si formano dei cristalli un po' articolata la cosa ma non deve caricarsi sotto quindi interviene sulle temperature anche qui non è che temperatura andata fine non la uso più quando ritorna nella normalità si riattiva da solo il bms può essere dotato di bluetooth come diciamo nella puntata precedente visualizzazione tensioni correnti stato di carica eccetera altra possibilità con il bms interno che abbiamo abbiamo possibilità di avere il preriscaldatore quindi la possibilità di preriscaldare le batterie nel caso di temperatura inferiore alla 0 prima di cominciare la carica si come i preriscaldatori del motore ho già fatto l'esempio nell'altro video bene italia speriamo di essere stati sufficientemente esaustivi non nel senso che ti abbiamo esaurito ma nel senso che abbiamo esaudito no le tue richieste di informazioni e che siamo stati anche altrettanto chiari ciao belli ciao a tutti ti anticipo ci sarà nella prossima puntata la prossima puntata sarà una puntatona in quanto parleremo e analizzeremo tutti gli accessori quindi il dcdc che singolo chiama iscdc e regolatori vari eccetera eccetera ma voto di 4 alla prossima eccolo grazie a tutti Oh 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 Grazie.